Come ogni anno, al termine della stagione invernale, il legname torna sulle spiagge del litorale sarzanese. Da anni, i comuni di Amelia e Sarzana si fanno carico dei costi delle attività di smaltimento, circa 180-200 mila euro all'anno. Ora però chiedono che ogni comune della zona dia il suo contributo. Abbiamo cercato di ottenere un emendamento alla legge di bilancio per fare in modo che i nostri territori venissero supportati da questo punto di vista, trattandosi, come dicevo prima, di territori su cui confluiscono corsi d'acqua provenienti da diversi comuni e anche regioni. Purtroppo il Governo ha votato negativamente. In seno al lato però, devo dire, ringrazio a questo proposito anche i tecnici provinciali, che vi è stata una sensibilità e un ascolto rispetto a questo tema e ci aspettiamo che per la prima volta nella storia, i costi per lo smaltimento di questi rifiuti vengano sostenuti in parte dal nostro comune, ma in parte dal lato e quindi da tutti i comuni che sono attraversati da corsi d'acqua che confluiscono nel magra e portano legna a noi sarzanesi. Il Parco Naturale Regionale di Monte Marcello Magra Vara ha presentato un progetto che punta alla manutenzione e conservazione dei fiumi. Previste modalità di intervento che vanno dalle cure minime fino alla possibilità di taglia a raso. Abbiamo all'interno di questo progetto cercato di programmare una diminuzione, naturalmente una sensibile diminuzione, di quelle che possono essere le biomasse che si spiaggiano a un buon fiume. Quindi una manutenzione straordinaria, una continua manutenzione ordinaria e un monitoraggio per far sì che arrivi meno biomasse sulle nostre spiagge e che queste possono essere gestite da un problema diventare una risorsa. Sul problema interviene anche l'Egambiente che evidenzia l'importanza del lavoro alla sorgente del fiume, ma anche di smaltire il legname senza causare danni all'ambiente. Si può fare un progetto di taglio selezionato, ripeto, ma selezionato non vuol dire indiscriminato, vuol dire sapere intervenire nei torrenti, nei versanti e anche nel fiume, sapendo cosa andare a tagliare, perché tagliare e da quello ricavarne una biomassa che può essere utile sia per farne un cippato per poterlo poi bruciare nelle stufe, sia per poterlo usare anche come ammendante dell'agricoltura. Grazie. 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 Grazie.